Ciao a tutti ragazzi sono Rinneganevo e oggi siamo sul nuovo video oggi vi farò vedere un gameplay di una demo di un gioco che mi avevano consigliato l'ho scaricata ieri sera e questo gioco è Nier Automata e sarà un gioco che uscirà no si dovrà uscire e quindi ho voluto scaricare la demo per provare com'è dai trailer sembra molto interessante quindi vediamo se la demo lo sarà altrettanto praticamente mi pare che la storia tu debba combattere contro dei robosi tipo un cazzo di ninja che taglia a fetta non lo so quindi mo vediamo demo 120161128 difficoltà ragazzi estrema muori con un solo colpo no col cazzo normale non so neanche come si gioca il risparso estrema 10 marzo 11.945 ho capito un cazzo però sembra anche leggere attivati short range attack here alert large enemy group detected yes i'm aware ok allora ragazzi con il quadrato farete gli attacchi normali come su ogni gioco con la x alti questo triangolo attacco pesante questo muovo la telecamera perfetto ok qui che cazzo di sciabola c'ho sulla schiena ah poi con r1 ragazzi sparate ma c'è ti sparerà il robottino che avete sulla schiena quindi c'è la mira del robottino che è un po' schifo e dovete essere in mira voi nel tesoro del tesoro con lo duty che è al centro beh non sembra male come giochi non so neanche si vabbè partiamo dai robottini sfigati e parto contro che cazzo faccio che cazzo faccio è il nostro target? negativo, questo enemio è non relato proposito, disfatturlo come potremmo possibile non lo dice non lo dice nemmeno Oh, che scura, non si va a dare un'altra cosa. A piano piano, usa a programma forte. Cos'è il ricaricamento? Aia 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 facciamo modo per recuperare vita via 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 aiuto aiuto poi ci lascia le penne ragazzi mi sa dai che ce la faccio devo schivare ste cazzo di bolle ok minca che bomber ragazzi questo qua come cazzo fa a vederci che è tipo boccelli tutta coperta un altro un altro cieco che cazzo è tutto tipo un gundam beh ragazzi il gioco ci sta non è male che figa c'ha un culo di fuori oh che rischio poi figa c'ha le cazzo di sciabole sulla schiena è morto? no? ho sparito e qua puoi fare su quella redetta da che parte vado? boh ah c'è la stradina lol manco l'avevo vista raccolgo quelle cose ragazzi non sapendo cosa siano cosa siano mi dicono cristalli me la madoi ho recuperato vita prima non sapendo neanche come magari prendere lo schiacciati qua non mi pare no quali sono monetine prima fa sta diventando sordo ragazzi comunque questa cosa sarà buono ah no 2b ma'am ma'am what is it i was going to send you the map data i collected earlier do it e' ok finalmente una cosa di te li getta a minima fa ah no secondo me se sospetto che il mio obiettivo sia poi gaudoso Non c'è nessuno. No, salto in giù. Aiuto, lombardo, no? Sì, poi si scatti troppo tanto, meni. No ma ragazzi è finito questo gioco Exit, confirmed, closed So open it But if we live, my enemies are jamming their signal Nothing's ever easy Un po' difficile solo sparare Ah ma le tesi possono tagliare Cazzo sta Ah c'è ancora due Ah ma ce n'è ancora uno Bastardo Ah no, ancora più uno Mi cazzo si è saltato fuori Ah ma ce n'è super pale il tuo Ah ma ce n'è ancora più uno Scouting out enemy lines and all that I don't usually get a partner It's kind of fun Emotions are prohibited Sorry ma'am And another thing Stop calling me ma'am Huh? It's unnecessary All right then To be it is Oh no Ok Oh no Oh no Oh no Oh no 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 non c'è niente qua non c'è niente qua non c'è niente qua dobbiamo imparare anche a mirare con questo non c'è niente qua 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 a recuperarla cosa faccio? recupero? ah se schiacci recupero recupero faccia in base, se schiacci cerci recupera vita ok mio dio cosa c'è con l'esito c'era una occhia c'era una occhia sto morendo giusto merda e' un'esito 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 e' 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 un'esito I surveyed the entire factory but couldn't find anything resembling our target I don't know, moved it somewhere? Is that? You mean the bird? Yeah, there's more plants and animals here than there used to be Probably because the environment's changed but if we can't find anything but I don't know why we can't find anything here is a good place and we still see dovrebbe essere un'altra facility all'interno di questa briga è un po' di un hike, ma dovremmo provare? non è come il comando per ottenere un locale non so, credo che anche loro devono ottenere l'intel di tempo a tempo, eh? non potrei credere non capisco come il telefono se non c'è eh? eh? adesso ho combattuto con tutte le semi circolari ragazzi sei i boss più strani del mondo alert high power jamming detected no response from long range communications doesn't matter all just taken out ma però se ci spari interrompi la loro morte che è interessante adesso cosa succede? che ne vanno? target enemy detected adesso che mi arriva la la fabbrica e la madonna c'è ragazzi arriva il transformer qui e e e la madonna addirittura Ottimus Prime allo appunto mi chiede anche un po' di tanto è sta cosa figa che cazzo sono che 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 Ho fatto solo con la schifezza di Divilla Eh si, ho diviso recupero automatico Si, vabbè, ma... Ho di nuovo la stacosa Ah ok, vieni a capare di uno Per fortuna, adesso che sono il Gundam Ok, fanno il support che fanno di tutti Sì, metter in touch, metterà una battaglia Sì, metterà una supermossa Sì, metterà una supermossa Sì, metterà una supermossa Packing in C'è una certa cosa Eh, addirittura Cioè io non ho fatto un cazzo ragazzi Alla fine ho staccato e basta e le prendevo da... Ok, non è morto no il gundam ma va a cagare questo pilo cazzo di Godzilla mega power ultra 9S black box signal dettagli no responso alle comunicazioni ando dopo lui non riesce il culo ma non so io sta denudata ma è vivo o morto sto coso ragazzi figa muore vive muore vive non lo so non so poi si passa da combattere non so poi si passa da a combattere i pistolini a combattere contro il mega Godzilla guarda che è brutta faccia brutta no sembra una tartaruga cazzo ragazzi guardate anche lì è incogionoso un po' combattere senza vedere cosa faccia e dai vaffanculo non ci sarà un altro boss qua sopra non ci sarà un altro boss no 9S il suo ragazzo 9S E se lo limone torna in vita e gli crescono sei atti e che non so E se gli fa un calippo vedi come torna in vita quello lì altro che non riesce più a tornare in vita Sì 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 ok ok In talk? I didn't know the machines had that kind of intelligence. To be, I found a weakness in the target, hacking in, to provide support. To be, the control, on the enemy's upper arm, use your pod, should be able to, take it over. I told you to shut up! Oh, I didn't understand what's going on. Ah, I didn't understand what's going on. Okay guys, I'm going to go to the computer. Balance controls overridden. Enemy unit subjugation complete. Oh my god, I thought I was going to go to the computer. Now I'm going to go to the computer. I'm going to go to the computer. I don't care how to get through my computer, guys. No. I'm not dying here. Qua Sei perché la lampadina dell'occhio ragazzi esplode questo Sto prendendogli la lampadina Perché la lampadina si sa che è mortale Non tutti i circuiti del resto del corpo La lampadina dell'occhio Visto ragazzi è ancora vivo con l'Oliato che moriva Ho detto io che non ero morto No, non sembra che sia necessario E adesso che canto c'è? Oh great Cioè ragazzi non lo so io Crescono come funghi Ma sì arriverà qualcuno a salvarmi Cioè quel cazzo che dovrò combattere contro le tigre dei morti Cioè quel cazzo faccio La black box It's ready Right Destruction of enemy hostiles via black box reaction Request accepted To be It was an honor to fight with you True Mi honor era mio Cioè basta quindi il gioco finisce così Quindi se è il primo livello questo Il 10 marzo 2017 Ragazzi tra poco arriva sta figata di gioco Spero che sia tipo Che non sia una parte della storia Loro che prendono la scatola nera e si fanno esplodere dopo 10 minuti Oppure che sia la fine Non credo perché sennò è già spoilerata Non lo so ragazzi Veramente Però ragazzi Oggi vi ho fatto vedere questo trailer Spero che il video vi sia piaciuto Ragazzi Se avete qualche altra demo da consigliarmi Da farmi provare Scrivetelo nei commenti Lasciate un like al video Quindi ragazzi Ci vediamo Sul prossimo video Ciao